Una missa dopo l'altra, ecco Miss Italy al secolo Anna Vincenzini, per prudenza è stata vaccinata contro tutte le illusioni, parteciperà al congresso internazionale della bellezza e prima di partire alla volta degli Stati Uniti viene presentata ai fotografi e ai giornalisti in atteggiamento poco disinvolto. Anna Vincenzini è romana di Roma, ha 20 anni, è alta 1,71 m e pesa 62 kg. Durante la conferenza stampa le sono state rivolte 6 domande e le sono state scattate 6.600 fotografie. Ha senza dubbio un bel fisico, ma non si può dire che abbia una bella cultura, è arrivata appena alla terza media, ma non importa, per la festa della bellezza basta la prima elementare.